Dal 18 al 20 marzo 2011 si è tenuta a Montichiari-Brescia, presso il centro Fiera del Garda, la prima edizione della Fiera di Vita in Campagna, dedicata agli appassionati di orto, giardino, frutteto, vigneto e piccoli allevamenti e alla casa. È stata la prima manifestazione dedicata all'agricoltura amatoriale, cioè pensata e realizzata a misura di tutte quelle persone, che in Italia sono più di un milione, che si dedicano nel loro tempo libero alla coltivazione di un pezzo di terra. 24.551 sono i visitatori della prima Fiera di Vita in Campagna, sviluppata su una superficie di circa 8.000 metri quadrati con 75 aziende espositerici. La Fiera ha offerto al visitatore la possibilità di vedere, grazie appunto alle ditte espositrici presenti, gli attrezzi e i prodotti, sementi, piante, concimi, eccetera, per il proprio hobby. Acquistare direttamente i prodotti durante la manifestazione. Partecipare gratuitamente, nei tre giorni dell'evento, a numerosi corsi pratici tenuti dai nostri esperti. La seconda edizione della Fiera di Vita in Campagna si terrà nei giorni 30-31 marzo e 1 aprile 2012, sempre a Montichiari-Brescia, e sarà più ampia sia come superficie espositiva che come numero di espositori. A farla da protagonisti saranno, come nella prima edizione, i corsi pratici di formazione sui vari settori che compongono la Fiera. Giardino, orto, frutteto, vigneto, oliveto, piccoli allevamenti e casa di campagna. Un modo, questo, per imparare a fare interagendo con i collaboratori di vita in campagna che cureranno le lezioni. Appuntamento a Montichiari, dunque, per vivere in pieno l'emozione di un'esperienza unica riscoprendo il fascino della vita in campagna.